Siamo trovati il telegiornale di Telenuova, la cronaca in apertura del nostro notiziario del sabato. Una violenta rissa scaturita. Ieri sera non c'era superiore in via nazionale tra sette donne, tutte straniere, quattro di loro sono state arrestate. Sono nigeriane che chiedevano a tre loro connazionali dei soldi per effettuare l'opera di prostituzione in via nazionale appunto. 200 euro per prostituirsi. Questo è il pizzo che veniva chiesto. I dettagli nel nostro servizio. Arriva. Pizzo per prostituirsi. Quattro nigeriane in manette. Blitz anti-prostituzione la notte scorsa a Nocera Superiore, l'intervento dei carabinieri della locale stazione che hanno operato congiuntamente ai militari della tenenza di Cava dei Tirreni e quelli della sezione radiomobile di Nocera Inferiore. Quattro donne, tutte di nazionalità nigeriana, sono state arrestate perché responsabili di estorsione e sfruttamento della prostituzione. Si tratta di donne giovanissime di età compresa tra i 29 e i 24 anni. Il fatto. In via nazionale a Nocera Superiore i carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione di una rissa in atto tra varie donne, sette in totale, tutte di nazionalità straniera. Gli uomini dell'arma sono riusciti a sedare gli animi dopo pochi minuti dal loro arrivo sul posto, riportando la calma anche grazie all'arrivo di equipaggi di rinforzo resi necessari per la delicatezza della situazione. L'attività investigativa, tempestivamente avviata, ha fatto sì che i carabinieri potessero accertare il motivo della lite tra le sette. In particolare, quattro di loro picchiavano le altre tre perché queste ultime si erano rifiutate di consegnare la somma di 200 euro che ognuno avrebbe dovuto pagare per esercitare il meretrice in quella specifica zona di Nocera Superiore. Quindi una sorta di pizzo per prostituirsi, il tutto scoperto con l'episodio dei carabinieri. Le quattro nigeriane sono state arrestate per estorsione e sfruttamento della prostituzione portata al carcere di Fuorni a Salerno su disposizione della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. Quattro donne stranieri arrestate. Di stranieri parliamo ancora. Gli immigrati con l'arrivo del bel tempo potrebbero arrivare altri immigrati nel nostro territorio. Sapete c'è stata una forte polemica tra i sindaci che alcuni sono disposti ad accogliere ancora i immigrati, altri invece asseriscono che non ci sono più spazi per l'accoglienza pur volendolo magari fare. Le disposizioni della Prefettura sono chiare e precise. In sé intanto c'è un commissario, il commissario straordinario del Comune di Castel San Giorgio che invece si dice pronto nel caso all'accoglienza. Vediamo. Ognuno faccia la sua parte, così come stabilito dagli accordi già presi. Il commissario prefettizio di Castel San Giorgio, Roberto Amantea, dice la sua sulla vicenda immigrati nelle città dell'agro. Molti sindaci hanno ribadito forte e chiaro il loro pensiero. Non ci sono più spazi per accogliere e altre richieste potrebbero non ricevere risposta positiva. Amantea invece si dice pronto in caso di nuova emergenza ad accogliere ove possibile nuovi immigrati se ce ne saranno le condizioni, anche se il Comune di Castel San Giorgio, dice, ha già raggiunto la soglia stabilita. Mi preme dire che Castel San Giorgio accoglie già. Abbiamo circa 40, 41, 42 persone che ospitiamo in due strutture che vengono ospitate da soggetti accreditati presso la Prefettura. Noi sulla base dell'accordo stipulato, voglio dirlo perché forse non tutti lo sanno, è stato stipulato un accordo tra Anci e Ministro dell'Interno per fare cosa? Per evitare i sovraffollamenti in alcuni comuni a danno di altri. Quindi si è stabilito che è possibile gestire meglio l'accoglienza se tutti i comuni si fanno carico in proporzione, in quota, appunto della gestione dell'accoglienza. È evidente, se noi ne accumuliamo 200 in un comune piccolo creiamo un problema. Se invece li distribuiamo sul territorio riusciamo meglio a gestire. Il San Giorgio, diciamo che da questo punto di vista, anche sulla base degli accordi Anci, avrebbe già garantita la soglia. Ma noi non è che ci fermiamo. Ove mai riuscissimo a trovare situazioni in cui possiamo garantire, siamo disponibili. E credo che lo debbano fare tutti quanti gli altri. Mi rendo conto che l'agro è una situazione di particolare. Tuttavia dobbiamo fare uno sforzo perché i profigo continueranno ad arrivare. E quindi non ci dovremmo sottrarre anche a queste responsabilità. A Pagani adesso le immagini che ci sono giunte in redazione. Un uomo di 40 anni ha minacciato di lanciarsi nel vuoto. Ha protestato sul balcone di casa una palazzina in via De Gasperi, appunto a Pagani, esponendo striscioni e anche una bandiera del Movimento 5 Stelle urlando contro tutto e tutti. Avrebbe, secondo indiscrezioni già precedenti specifici con la giustizia, con le forze dell'ordine. Inoltre sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco, carabinieri e anche un'ambulanza per cercare di capire cosa stesse succedendo. Ai nuovi propositi di lanciarsi nel vuoto i vigili del fuoco hanno fatto irruzione al secondo piano di questa palazzina, sono riusciti ad entrare e hanno cominciato anche a parlare con l'uomo evitando il peggio. Ovviamente c'è da capire in modo dettagliato che cosa volesse questo uomo con l'esposizione di questi striscioni e minacciando insomma di lanciarsi nel vuoto, il motivo che ha scatenato questa sua protesta. E adesso ancora la cronaca, parliamo del maltempo nel Golfo di Salerno, una nave battente bandiera maltese perde in mare tutto il suo carico, in particolare cisterne di vino. C'è stato l'intervento da parte della Guardia Costiera di Salerno, l'Eurocargo Salerno. Durante la navigazione da Palermo al porto di Salerno si è trovato in mezzo a una tempesta. Ingenti danni a bordo, stiamo vedendo le foto, perdite in mare di tre cisterne. La capiteria di porto ha monitorato la nave fino all'arrivo nel porto, tenendosi ininterrottamente in contatto col comando di bordo e la compagnia armatrice. La nave è stata oggetto di visita ispettiva da parte del nucleo specialistico una volta arrivata al porto di Salerno. E ancora notizie, sempre dalla Guardia Costiera, perché c'è stato un intervento da parte dei militari della Guardia Costiera per salvare un surfista in difficoltà per il forte vento che era appunto abbattutosi sul litorale salernitario. Un ragazzo di 25 anni era in difficoltà a Mercatello, c'è stato subito l'allarme di un residente della zona. Il 25enne si teneva aggrappato alla sua tavola da surf e a causa del vento non riusciva più a tornare a riva. È stato tratto in salvo appunto dagli uomini della Guardia Costiera. E adesso andiamo a Ponte Cagnano. Il comune di Ponte Cagnano si costituisce parte civile nei procedimenti per femminicidio e violenze su minori. Una vera e propria rete, quella che il comune ha voluto creare con un protocollo d'intesa con le associazioni, gli enti del posto e anche le forze dell'ordine. Vediamo. Un progetto, una grande rete che comprenda amministrazione comunale, enti, associazioni e forze dell'ordine per dire no alla violenza. Il comune di Ponte Cagnano ha deciso di agire, di mettere in pratica azioni reali e non lasciare alle parole il pur importante apporto verso chi subisce soprusi e maltrattamenti. L'ente comune si costituirà parte civile nei procedimenti penali per femminicidio e atti di violenza sui minori. L'amministrazione Sica ha preduco una pagina storica e con l'approvazione in giunta del provvedimento pone in evidenza un concetto. Basta ad ogni forma di violenza e in particolare stoppa le orribili vicende che riguardano donne e bambini senza possibilità di difesa. La Costituzione di parte civile dell'associazione e della nostra amministrazione è in coerenza con l'apertura dello sportello della legalità fatto qualche mese fa, in coerenza con un percorso di collaborazione con le autorità giudiziarie, con le forze dell'ordine, di quale va un plauso e un ringraziamento indubbiamente perché c'è rispetto e c'è attenzione, c'è fiducia nella magistratura, nelle forze dell'ordine. Sono parole che si dicono per convinzione, non per convenienza e questo lo mettiamo in atto con questo percorso di oggi e quello che abbiamo fatto nel passato e quello che faremo in futuro in una forte collaborazione. Faremo anche un protocollo d'intesa o meglio ancora un'intesa istituzionale con la direzione investigativa antimafia per gli appalti che noi faremo in questa città come abbiamo già fatto e continueremo a fare all'insegna della trasparenza e della massima legalità. Questo è un inizio, la Costituzione di parte civile nei processi penali per femminicidi e violenza su bambini, è un inizio per testimoniare la volontà di questa comunità di partecipare perché la Costituzione ci dà questa opportunità di partecipare insieme al PM in fase di dibattimento per aggiungere prove, per sostenere un'accusa perché la pena, dico la verità, deve essere esemplare non solo in questo caso ma in tutti i casi di violenza sui bambini e di femminicidio. Oggi si costituisce una rete con cui l'assessorato delle pari opportunità vuole lavorare perché credo sia finito il tempo delle autodeterminazioni o delle autoreferenzialità. È venuto il tempo che anche l'assessorato regionale, di cui ho grande stima nell'assessorato regionale delle pari opportunità, scende e venga nei territori perché bisogna ripartire dai territori, perché alcuni servizi a fondo delle donne sono soltanto scritti sulla carta e non hanno determinato nessun cambiamento. Ma a Ponte Cagnano, nell'ambito dello stesso evento, è stato ufficializzato anche l'impegno per il sostegno alle vittime di usura e racket con l'Associazione Emergenza Legalità che si costituirà parte civile nei procedimenti penali. Un altro tassello importante, in un territorio dove c'è bisogno di legalità, viste anche le recenti operazioni delle forze dell'ordine per la lotta alla criminalità e le infiltrazioni anche all'interno degli enti pubblici con risultati eccellenti raggiunti dai carabinieri della compagnia di Battipaglia guidati dal capitano Eric Fasolino. Io credo comunque che la fiducia nell'istituzione non debba mai venire meno e questa è in effetti la dimostrazione. La collaborazione delle persone serve a partire da chi vive il territorio, quindi gli imprenditori, i commercianti, da parte tutti quanti, perché altrimenti noi senza un aiuto loro naturalmente a certi risultati non potremmo mai arrivare. Si riferisce a chi ha avuto il coraggio di denunciare? No, non era facile. A chi ha avuto il coraggio di denunciare e anche e soprattutto a chi ha amato ha avuto il coraggio di ammettere. Ha perso un po' il conto di quante persone sono state coinvolte nelle tue operazioni? Non voglio fare un conto perché potrei pecare di modestia, però penso che abbiamo portato a termine risultati eccellenti. Il crollo di intonaco nelle aule della scuola Serra Z, secondo circolo didattico di Sarno, subito gli interventi tempestivi dei tecnici, da lunedì inizieranno anche dei lavori di messa in sicurezza delle due aule che intanto sono state ovviamente chiuse. I ragazzi però della seconda e quinta elementare interessati da questo loro malgrado, da questo problema, resteranno nella scuola, nel plesso scolastico Serra Z, in due aule diverse. Quindi nessun doppio turno e nessuno smistamento in altre scuole del territorio. Vediamo il servizio. Nessun doppio turno, ma solo lo spostamento in un'altra aula per i bambini della quinta e seconda elementare del secondo circolo Serra Z di Sarno. Dopo il crollo di intonaco nelle classi di questa scuola, immediati sono giunti gli interventi dei tecnici del Comune dei Vigili del Fuoco per verificare la sicurezza della struttura. L'amministrazione Canfora ha disposto una ricognizione generale anche in tutti i plessi della città, così da rendere più tranquilli i genitori degli studenti, allarmatisi dopo quanto avvenuto l'altra notte. L'episodio ha messo a nudo la condizione non idonea di parti di Solaio e il sindaco si è subito attivato dopo aver effettuato un sopralluogo per rassicurare famiglie e bambini che frequentano il plesso di via provinciale a Mendola. Sono state ispezionate tutte le aule del piano terra e primo piano del plesso scolastico di Serra Z insieme all'ingegnere del Comune Casola e al geometra Corvino. I danni maggiori nella classe quinta, come si diceva, con il distacco di circa due metri quadri di intonaco dall'intradosso col solaio sottostante che ha presentato armature corrose. Il distacco è stato causato, dicono i tecnici, dei posti umidi di prosciugatura pregressa di umidità eliminata da un intervento di impermeabilizzazione e dalla conseguente azione di prosciugatura dell'intonaco e del solaio stesso. Anche l'aula occupata dalla seconda classe presentava lesioni da tamponatura e in questo caso sarà effettuato sin da lunedì mattina un intervento di spicconatura di intonaco. Le altre aule ispezionate non hanno evidenziato alcun segno di pericolo. Le due aule che hanno subito danni sono state chiuse ma i bambini non dovranno traslocare, come si diceva, in un altro plesso. Seguiranno le lezioni sempre a Serra Zeta in altri posti. Interverremo sia per sistemare lì dove parte dell'intonaco e del tavellato è venuto giù e sia per intervenire sull'altro aule, al diacente, dove c'è questa infiltrazione e cercheremo di riparare questa situazione. La macchia, cioè l'infiltrazione d'umidità, è una macchia che fa capire che è antica, cioè non c'è una umidità fresca, cioè è il risultato, il residuo di una vecchia infiltrazione. Quindi come sempre succede, io non faccio l'ingegnere, né tanto meno sono un tecnico, c'è stata l'infiltrazione, poi c'è stata l'impermeabilizzazione, con il tempo si è asciugata da parte dell'acqua per cui poi asciugandosi l'intonaco si distacca e viene giù. Presumibilmente questo è successo, quindi va risistemata la zona che è stata soggetta a questo distacco. La fortuna ha voluto che accadesse di notte? Beh sì, insomma, fortunatamente la fortuna ha voluto che accadesse di notte e quindi non c'erano i bambini nell'aula. Ora l'amministrazione provvederà a ripristinare la situazione ma anche ad ulteriori controlli a questo punto? Beh sicuramente, insomma, già l'aula adiacente sarà risistemata e poi certamente faremo dei controlli più accurati su tutto l'edificio. Però l'edificio, insomma, io ci sono andato, ho parlato con le mamme, ho parlato con la direttrice, è stato anche ripitturato di recente, insomma, quindi tranne questa situazione oggettiva nell'aula al secondo piano poi l'edificio si presenta in buone condizioni. Non potevano però mancare le polemiche, Forza Italia e i componenti dell'opposizione dell'amministrazione di Sarno in una nota scrivono vogliamo vederci chiaro sul crollo del soffitto della scuola di Serra Zeta non va messa a rischio la vita dei nostri figli solo per miracolo si è sfiorata la tragedia come è possibile quanto è successo in capo a chi è la responsabilità del controllo dell'operato delle ditte che lavorano e che eseguono i lavori si legge nella nota a nostro avviso le ditte che lavorano in questo modo devono essere messe da parte non possono partecipare a gare d'appalto vogliamo che chi ha sbagliato debba ripagare il danno non possiamo accettare che la vita dei nostri figli sia in mano a degli incapaci sempre nelle scuole c'è la notizia di ladri che tornano a colpire nei plessi scolastici della nostra provincia furto da 20.000 euro nell'istituto Profagri costretto ancora a fare i conti con un'irruzione di ladri appunto nel proprio plesso sono entrati nella notte della sede di via delle Calabria a Salerno messi a soccuadro uffici amministrativi e presidenza da parte di alcuni ignoti che hanno rubato computer ed altri oggetti e adesso parliamo di ambiente il treno verde di legambiente che è arrivato a Salerno si è discusso anche tanto di tutte le situazioni legate all'ambiente perché questo treno verde fa insomma soprattutto da specchietto per quanto riguarda varie vicende sul tema ambientale in particolare si è parlato di inquinamento acustico e di livelli di PM10 vediamo a Salerno in 4 punti su 5 il rumore raggiunge livelli ben al di sopra dei limiti consentiti dalla legge l'inquinamento acustico sembra un problema marginale ma ha conseguenze dirette sul benessere e sulla qualità della vita per questo legambiente attraverso la tappa salernitana di treno verde che si conclude oggi ha chiesto all'amministrazione pubblica di mettere in campo azioni concrete per ridurre gli impatti ambientali al fine di migliorare la qualità della vita e della città a partire da una nuova idea di mobilità che privilegi il trasporto pubblico locale per quanto riguarda il monitoraggio del treno realizzato con la collaborazione anche delle università e realizzato grazie ad una strumentazione portatile nei 5 punti individuati nel comune campano sono state eseguite nelle giornate del 9 e 10 marzo misurazioni di un'ora di polveri sottili e di rumore a Corsocavur, all'altezza di Piazza Mazzini, in via Posidonia all'incrocio con via Marti d'Ungheresi, largo con Forti Abbate via De Greci, dove si trovano le fonderie Pisano all'altezza proprio della zona dove sorge l'impianto via Del Carmine, all'altezza di via Piave le misurazioni del rumore eseguite dai tecnici di Lega Ambiente hanno superato i limiti previsti dal piano di zonizzazione acustico della città diversamente accade invece per quanto riguarda la misurazione delle polveri sottili ma come ha spiegato la rappresentante di Lega Ambiente i risultati sono forse stati influenzati dalla presenza del forte vento in questi giorni i nostri volontari si sono adoperati per raccogliere non solo l'inquinamento, i dati sull'inquinamento ambientale ma anche sull'inquinamento acustico in cinque punti della città di Salerno in particolare il centro storico, la zona orientale, il Carmine, il Corso e naturalmente siamo andati anche sulla zona delle fonderie per capire un po' la situazione bisogna però considerare le condizioni eccezionali del clima il vento è stato molto forte e questo naturalmente ha come dire spostato le polveri in realtà queste polveri però le abbiamo comunque respirate o comunque le continueremo a respirare per cui non è una situazione da farci stare serene i limiti sono nella norma per quanto riguarda l'inquinamento ambientale mentre quelli acustici su cinque punti, quattro, sono risultati al di sopra questo è un dato da non sottovalutare perché l'inquinamento acustico ha comunque incide sul nostro benessere anche psicologico e fisico da questo punto di vista noi come lega ambiente pensiamo che innanzitutto bisogna fare opere di prevenzione, bisogna attuare molte più domeniche ecologiche attuare un sistema integrato di trasporto urbano e capire che insomma non possiamo sempre fare affidamento al vento per respirare aria pulita Quali sono i vostri rapporti con l'amministrazione comunale di Salerno? C'è collaborazione su questo fronte e anche su quelle che sono le proposte di lega ambiente? Noi continuamente proponiamo all'amministrazione delle nostre proposte alternative sostenibili e cerchiamo di collaborare non solo con l'amministrazione ma con quanti si rendono disponibili per attuarle l'impegno prima di tutto Allora arrivano altre notizie per quanto riguarda il treno verde perché si parla di smog, rumore ma non solo si è parlato e si parlerà anche nei prossimi giorni con l'arrivo del treno verde a Salerno anche di altre tematiche legate all'ambiente treno verde che poi proseguirà la sua corsa ovviamente non solo su Salerno ma anche nelle altre città della regione Campania con l'impegno di lega ambiente Campania del presidente Michele Buonomo E il magistrato Gennaro Marasca attualmente in quescenza il nuovo presidente dell'organismo di vigilanza Gori con incarico assunto già lo scorso fine febbraio l'organismo è dotato di autonomi poteri di iniziative e controllo ha tra i vari compiti quello di verificare aggiornare e adeguare alle normative il modello di organizzazione, gestione e controllo che l'azienda ha adottato ai sensi della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti Cambiamo completamente argomento la presenza di un archeologa di grande valore ha arricchito i seminari organizzati dall'assessore di Nocera Superioreto Baldo Fortunato la dottoressa delle Lagi ha affascinato tutti coloro che hanno presenziato alla biblioteca di Nocera Superiore con il racconto delle sue esperienze archeologiche in particolare in provincia di Salerno vediamo una serata di cultura una serata di storia una serata di archeologia una serata che l'assessore Teobaldo Fortunato assessore all'estetica e alla bellezza del comune di Nocera Superiore dedica a quanti sono interessati alla propria storia alla propria identità ebbene materiale ed immateriale che emanano gli scavi di Pompei gli scavi di Nuceria dell'antica Volcei parco archeologico che è stato promosso dalla dottoressa Lagi che ha trascorso una vita in quella terra perché non sviluppare e perché non fare in maniera che si sviluppi il turismo intorno a queste pietre che veramente fanno respirare la storia antica la storia dei nostri progenitori ecco il tentativo dell'assessore è proprio questo e sta imitando il fiorfiore degli studiosi di storia antica e il fiorfiore dell'archeologia nazionale i valori immateriali di Pompei cioè quei valori che Pompei racchiude oltre le pietre quello che racconta quello che significa Pompei come città antica e perché a Pompei i valori immateriali e materiali che sono tutelati dall'UNESCO possono considerarsi un tutt'uno tutti gli anni della mia gioventù li ho dedicati a Buccino a Pompei ho cercato di regalare l'esperienza che avevo fatto a Buccino la storia è qualcosa che si deve raccontare comunque la storia poi alla fine interessa la gente soprattutto interessa e questa è la parte più bella dell'esperienza che ho fatto a Buccino interessa la comunità la comunità ama sentirsi raccontare la sua storia e desidera che qualcuno lavori perché venga conservata il passaggio più difficile è che la comunità deve capire che loro stessi devono lavorare perché la loro storia venga conservata oggi Pompei è il nome che fa effetto nel mondo ma in antico Nocera era la capitale della Lega Nocerina di cui Pompei faceva parte ma Nocera era la capitale puntare anche l'attenzione un po' più in là di Pompei a Nocera che comunque era legata a Pompei da motivi non soltanto economici di vicinanza ma dalla stessa area di appartenenza e lei ha colto l'invito parlerà dell'esperienza di Pompei dei siti vesuviani anche per darci delle dritte come fare affinché i monumenti di Nocera Superiore un'useria quella per cui noi stiamo lavorando ormai veramente da anni insomma vada l'attenzione diciamo di un pubblico più vasto con leggi della salvaguardia anche dell'UNESCO un museo come quello di Puccino che è straordinario al convento di Sant'Antonio a Nocera Inferiore l'Università delle Treta ha voluto ampliare il numero dei volumi dei libri presenti nella biblioteca dando così la possibilità di avere maggiori possibilità appunto a tutti i giovani in particolare ma non solo di un'ampia lettura rispetto al mondo umanistico ma non solo perché poi sono arrivati anche tanti libri e tante possibilità in più rispetto alla storia in tutto il mondo legata alla fotografia con una vera e propria fototeca vediamo e scopriamola di più Tanti libri e una fototeca per ripercorrere anche la storia del nostro territorio ma più in generale per fornire l'opportunità ai cittadini di poter trovare a portata di mano volumi che possano creare un centro culturale di interesse e letterario frequentato che possa ancor più svilupparsi col passare del tempo al convento di Sant'Antonio a Nocera Inferiore l'Università delle Treta ha dunque ampliato la dotazione libraria della biblioteca già esistente grazie al professor Rosario Pinto e al maestro Massimo Lanari che hanno donato volumi di vario genere in particolare Lanari 750 volumi di immagini provenienti da tutto il mondo questo ha fatto sì che ci sia uno spazio completamente nuovo e accattivante soprattutto per i giovani è aperta a tutti quelli che hanno desiderio di approfondire argomenti filosofici e artistici come anche ad alunni e a persone che vogliono comunque visionare praticamente da una fotografia il mondo perché il dottor Lanari ci ha donato questi 800 volumi circa 58.000 foto di tutto il mondo lui ha girato il mondo per cui ha fotografato e ha donato questo enorme diciamo questo grandissimo patrimonio fotografico e con questo patrimonio del dottor Lanari noi abbiamo arricchito la biblioteca come una fototeca quindi oltre ad avere libri antichi da 1600 errotti abbiamo anche questo patrimonio grande profilo per la cultura nocerina poiché consente di acquisire alla fruizione pubblica un patrimonio librario di straordinario rilievo e di grande spessore è una biblioteca sostanzialmente specialistica ha una sua vocazione sostanzialmente di carattere umanistico e ho il privilegio di poter dire di avere contribuito io stesso a questo ampliamento della biblioteca con la donazione di oltre 2000 volumi e di alcune annate di riviste specialistiche che sono state da me fatte passare qui alla biblioteca di Sant'Antonio dottore la sistemazione della biblioteca del convento di Sant'Antonio dal quale ho regalato diversi volumi di foto per completare diciamo così una mia aspirazione a poter donare questi volumi che vengano conservati nel modo migliore e che possono servire per essere visti e guardati da tutti quelli che hanno desiderio di conoscere il mondo una grande festa in un ristorante di Nocera Inferiore a cui hanno preso parte i cinque gruppi di Nocera aderenti al Carnevale Nocerino 2017 organizzatori componenti delle associazioni dei comitati che hanno allestito i carri si sono ritrovati per festeggiare l'edizione appena trascorsa e programmare la prossima presente anche il sindaco Torquato di Nocera Inferiore che già nel corso del Carnevale aveva espresso il proprio apprezzamento per il successo dell'evento evento che grazie anche alla collaborazione col Carnevale di Sarno sta raggiungendo grandi livelli tra poco ci vediamo per lo sport voglio anche ricordarvi anticiparvi che non c'è la Serie D ma c'è una notizia importante che era attesa dai sostenitori della Nocerina si gioca o non si gioca il 19 marzo con l'Ercolano si giocherà a tra poco